Un'indagine importante che rappresenta un pilasso di riferimento per l'attuazione della legge 15 approvata a metà del 2019, fortemente voluta dall'Assemblea regionale e dalla Giunta e che oggi attraverso questo quadro, che questa ricerca delinea in modo puntuale e anche propositivo riusciamo a conoscere meglio, abbiamo condiviso a partire dalle associazioni che appartengono alla comunità LGBTQI+, della nostra regione, la necessità di conoscere meglio i fenomeni di discriminazione e questa collaborazione con l'Università di Padova, in particolare con i professori Trappolin e Gusmeroli ci ha davvero aiutato ad entrare in contatto e ad approfondire tantissimi temi. Un'indagine che si è svolta in due step, una prima fase con 40 questionari mirati e in profondità e quindi motivazionali rivolti particolarmente alle associazioni ma anche ad altre realtà, penso ai consultori sanitari piuttosto che altri mondi che si occupano di tematiche legate alle discriminazioni sull'orientamento sessuale e poi un questionario aperto a cui hanno aderito 1053 persone che hanno accolto, come dire, la richiesta di raccontare un po' di sé delle proprie esperienze. Gli esiti sono esiti importanti, significativi, che ci raccontano di luci e ombre, di esperienze non sempre positive ma anche di una forza e di una determinazione oltre che di servizi e punti di riferimento che nella nostra regione ci sono ma che naturalmente vogliamo rafforzare e soprattutto rendere sempre più capaci di riconoscere la piena libertà delle persone che naturalmente vogliamo possano avere i loro diritti pienamente riconosciuti. Quindi questo è un punto di partenza. Noi questa mattina abbiamo presentato gli esiti di questo studio ai componenti dell'osservatorio che è il nostro strumento di riferimento con cui costruire anche i passaggi futuri declinati su progettualità specifiche, su bisogni, quindi un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza, gli esiti di questa ricerca che davvero ci rappresenta da un quadro molto molto interessante e tantissimi spunti di lavoro per il futuro. Un ascolto che insomma abbiamo provato a mettere in atto in una logica anche di costruzione e da qui anche l'esito e la necessità di conoscere meglio le dinamiche. È un quadro molto articolato perché la comunità LGBTQIA+, è una comunità molto articolata che esprime bisogni e punti di vista molto diversi in alcuni casi. Un lavoro però positivo perché da questa comunità così larga e così vivace e propositiva abbiamo anche trovato delle sintesi e una strada, piste di lavoro comuni che naturalmente approfondiremo. Quindi siamo contenti. È evidente che ci sono alcuni ambiti che sono un po' più delicati rispetto ad altri. Noi come dire ci occuperemo e ci occupiamo dell'accesso ai servizi pubblici per esempio ma non meno è importante il tema appunto di trovare punti di riferimento solidi per poter denunciare i casi di molestie, maltrattamenti di cui appunto siamo stati testimoni per i racconti che sono stati fatti e ancora la libertà di poter frequentare con la dovuta e necessaria tranquillità i luoghi pubblici e gli spazi a disposizione delle comunità. Questi sono solo alcuni esempi. Dall'indagine, faccio volentieri questa sottolineatura, emerge però che il nostro campione che è un campione vario di persone che vivono nelle città e nelle periferie, persone che hanno un grado di istruzione abbastanza elevato e comunque anche in questo caso diversificato, diverse età, c'è una consapevolezza e una capacità di reagire rispetto alle difficoltà decisamente positiva e rilevante. Quindi pensiamo che il lavoro da fare ci sia ma che ci sia anche un terreno fertile e molte opportunità per migliorare la condizione delle persone che si sentono discriminate o che lo sono state purtroppo nel corso della loro vita. I dati di questa indagine sono che su più di mille persone che abbiamo intercettato attraverso questa rilevazione solamente uno su cinque può dirsi riparo da qualsiasi tipo di vittimizzazione per cui il 20% ci ha dichiarato di non aver mai incontrato né violenza né discriminazione. Ciò significa che quattro persone su cinque invece l'hanno incontrata e l'hanno incontrata in modo pesante. Ad esempio i tre quarti delle persone che abbiamo intervistato, dunque più del 75% ci hanno detto di subire, di aver subito insulti e derisioni sia nel mondo virtuale per cui online sia nel mondo reale per cui offline. Più del 50% invece ci ha dichiarato di aver subito e di subire minacce sia nel mondo virtuale che nel mondo reale e il 60% per cui 6 persone su 10 ci ha dichiarato di aver subito e di subire invece un fenomeno che si chiama tecnicamente outing, cioè il fatto di subire la rivelazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere in modo indesiderato. Sono dati importanti. Abbiamo anche rilevato invece le forme di aggressione fisica che pensiamo essere molto ad esempio le aggressioni fisiche percosse e botte e le aggressioni sessuali. Il 10%, più del 10%, se non sbaglio l'11% delle persone ha dichiarato di aver subito nella vita una violenza sessuale e non è un dato banale, mentre una persona su 5 ha dichiarato di aver subito o di subire in maniera continuativa aggressioni fisiche per cui percosse e botte. Il rapporto col mondo del lavoro è complicato, dunque il nostro è un campione giovane per cui l'età media è pari ai 34 anni, per cui ci sono state realizzate altre ricerche specifiche sul mondo del lavoro, però anche noi abbiamo intercettato una percentuale non marginale di persone che dichiarano di aver subito discriminazione al lavoro, il 20% ce l'ha dichiarato al tempo stesso, però abbiamo un 25%, questo è un dato interessante, un 25% di persone, per cui una su quattro, che ci ha dichiarato di aver evitato di proporsi per un colloquio di lavoro per timore di subire derisioni, calunnie o discriminazioni, questi sono dati importanti. Circa una persona su due, per cui il 50% delle persone che subiscono episodi discriminatori non ne parla a nessuno, non ne parla a nessuno vuol dire che non si limita a non denunciare alle forze dell'ordine, ma non ne parla a nessuno, non lo dice né agli amici, né alle amiche, né ai familiari, né alle associazioni, né ai professionisti, né ai sindacati. Questo dato ci dice che si tratta di un'esperienza di vittimizzazione che rimane per un effetto importante nascosta, priva di voce. Quando si decida invece di parlarne con qualcuno si preferisce parlarne con i propri familiari, per cui tra chi ne parla a qualcuno l'80% ci ha dichiarato di farlo con i propri familiari o con i propri amici, per cui nelle reti primarie. Le persone che invece si rivolgono alle forze dell'ordine sono una percentuale molto contenuta, mi pare che sia il 5% dell'intero campione e grossomodo il 10% di chi decide invece di denunciare.